Castiglion Fiorentino I spettacoli più divertenti della stagione, nel mezzo Giorgio Pasotti, Silvio Orlando, una giornata della memoria con il nuovo spettacolo di officine della cultura, Vighe Lid e tante sorprese anche durante l'anno, quindi spettacoli per bambini in tutte le mattine con le scuole, spettacoli pomeridiani per le famiglie, una stagione off con le residenze che staranno qua a Castiglion Fiorentino, quindi una stagione completa da tutti i punti di vista. E nel calendario castiglionese non poteva mancare un appuntamento con il confermato direttore artistico del teatro Alessandro Benvenuti. Una cosa un po' particolare, sono cinque atti, cinque atti brevi, dove io racconto come un cucciolo di cane possa inclinare l'amore fra due persone. Ora, questo in sintesi, ci sono delle sorprese dentro, però io lavoro sul comico, per cui è decisamente uno spettacolo comico, dove io racconto la storia sia dalla parte del marito che dalla parte della moglie, cioè la versione di Mara. Attenzione alla qualità, ma anche alla sicurezza e alla prevenzione sismica, tematiche più che mai attuali in questo momento. Questa amministrazione ha voluto fortemente ottenere i requisiti di agibilità e di vulnerabilità sismica, che sono quelli essenziali perché un'attività di pubblico spettacolo si possa svolgere. Quindi è un sacrificio di cui oggi, come dire, ne possiamo trarre dei vantaggi, proprio perché l'agibilità ottenuta dalla Commissione Pubblico Spettacolo per 11 anni, dà questo, diciamo, anche ulteriore ingrediente positivo per il Teatro Spina e la stagione teatrale di Castiglione Fiorentino.